Il secondo intervento di questa mattina di Filomeno Lopez esposta la nostra attenzione non solo alla provenienza da un altro continente, quello africano, Filomeno proviene dalla Guinea Bissau, è giornalista, è scrittore, ma ovviamente ha uno dei temi fondamentali quando le voci vengono dall'Africa, cioè quanto le pratiche educative e il pensiero su di esse hanno ancora oggi bisogno di essere decolonizzate e non unicamente dichiarate decolonizzate perché adesso avvengono sul posto autonomamente e a distanza di anni dalla presenza di chi aveva colonizzato. Il processo di decolonizzazione è un processo culturale molto profondo di trasformazione delle conoscenze e prosegue nel tempo per tutti noi. Direbbe Freire che come l'oppresso si deve liberare anche l'oppressore, si deve liberare quindi anche chi ha colonizzato ha un percorso molto lungo e molto profondo di decolonizzazione della propria immagine. Grazie Filomeno, raccomando ma ne sono sicuro anche a te il rispetto dei tempi, poi mi odierete solo fino alle 11, dopo ci vorremmo bene, ma adesso qualche minuto prima dirò che il tempo sta scadendo. Grazie. Allora, grazie. Prima per l'invito, buongiorno a tutti e devo dire l'organizzazione grazie soprattutto per questo amabilissimo invito e l'insistenza che partecipasse a questa realtà bellissima di cui condivido 100% che per me è una sorpresa perché non la conoscevo. e questo ti fa vedere anche le mille e tante facce di questo paese. Accettare questo invito in questo momento per me non era facile. Dopo una campagna elettorale così accesa, dove ci siamo sentiti tutti insulti possibili di tante cose. E subito dopo essere invitato a parlare di cittadinanza globale per un africano che raccomanda prudenza. Non ti vieni così spontaneo. In effetti c'è un proverbio dei popoli dell'Africa dell'Ovest che dice quando parli con qualcuno e non ti ascolta, beh, è molto semplice. Stai zitto e ascoltalo. Perché forse ascoltandolo capirai perché non ti ascolta. Ecco, in questi periodi abbiamo preferito ascoltare. Con fatti drammatici eccetera eccetera, ma abbiamo preferito ascoltare. Solo che ascoltando mi sono domandato dove sono. Allora ecco che ben volontieri ho accettato di venire un po' a condividere alcune cose con voi. Piuttosto sono più, diciamo così, preoccupazioni su questa cittadinanza globale. E il titolo, sicuramente come l'avete visto, è che io ho dato è la fine dei destini singoli. Se mai ci siano stati i destini singoli. E la prospettiva di cittadinanza globale. Quello che io cerco di fare è di portarvi un mio modesto modo di vederlo a partire da un orizzonte che è quello da cui provengo, che è il continente africano. Come dagli anni trenta del novecento fino a questa parte gli africani si sono trovati a discutere su questa cosa e si pensava che fosse risolto. Invece arriviamo qui, nel terzo millennio, l'Italia, il paese di Roma, Caputmundi, ci svella sorprese un po' amare da questo punto di vista. Ma come diceva mio papà, quando è buio è buio, inutile stare lì a lamentarti. L'unica cosa che puoi fare è accendere una candela oppure semplicemente stai zitto e taci. E la candela noi te l'abbiamo data mandandoti a scuola, l'educazione. Ecco. Allora, un po' dentro di questo ho accettato ben volontieri di venire a condividere con voi alcune cose. E sono quindi consapevole della complessità del tema. La fine dei distini singoli concluderà semplicemente con una consapevolezza, che poi io cercherò di arrivarci. Cioè, che prima dell'indipendenza, le lotte per l'indipendenza dei paesi africani sono state fatte con questa consapevolezza. Che ciò che noi siamo come africani non eravamo africani. È la venuta dell'alto che ci ha obbligati ad essere africani. E quindi l'indipendenza è un modo di dire noi dobbiamo cercare di partecipare alla coesistenza pacifica. Solo che prima di coesistere, diceva Milker Cabral, bisogna esistere. E l'indipendenza era un processo per affermare davanti al mondo, il continente e il proprio paese, che anche noi ci siamo come soggetti strategici dello sviluppo del mondo, del continente e dello stesso paese. Quindi non un ripiegamento su se stessi, ma un'accettazione di un fatto drammatico, violento, che ci obbliga comunque a rileggere la nostra identità in prospettiva più globale. Che Senghor dirà, noi non siamo per la civilizzazione universale, perché l'universale vorrebbe dire ancora un unico senso, ma come possiamo darci questo rendezvous de donner et de recevoir, per, quindi l'appuntamento di dare e di ricevere, per arrivare ad una cultura del universale. E questo, come farlo? Con la consapevolezza che dalla conquista a questa parte, il mondo non è l'Occidente, ma l'Occidente in quanto paradigma è diventato il mondo entro il quale tutti noi siamo nati e cresciuti. Quindi questa storia di noi voi è inutile e noi lo sappiamo, perché lo viviamo quotidianamente. E pensavamo che chi ha iniziato questo processo ne fosse consapevole. E invece sempre di più le campagne elettorali di questi ultimi tempi delle crisi in Europa ci dicono che forse qualcosa non ha funzionato. La storia dell'Europa è diversa dal comportamento che si ha oggi. Allora io lo accetto di condividere con quella, mettendomi sulla base, di Gramsci che diceva la storia insegna sempre, purtroppo non ha scolari. E allora questo è il punto d'arrivo. Come l'architettura, come gli africani ci sono arrivati. E io dicevo che la complessità dell'argomento in questione mi fa pensare ad una barseletta che è stata fatta su un sondaggio globale realizzato sul tema della scarsità del cibo, che riportava però la seguente domanda. Non so se parlo piano così. Per favore, questa era la domanda. Qual è la sua opinione sulla scarsità di alimenti nel resto del mondo? Ognuno doveva dare una risposta. Beh, l'indagine, come è risultato anche la stessa Unesco poi fece vedere questo, risultò in un falimento. E perché? Perché in Africa nessuno sapeva cosa fossero gli alimenti. In Europa occidentale nessuno sapeva cosa fosse la scarsità, cosa si intendesse per scarsità. In Europa dell'est nessuno sapeva cosa significasse opinione. In America meridionale nessuno sapeva cosa significasse per favore. È tutto dovuto. E in America del Nord, soprattutto negli Stati Uniti, nessuno sapeva cosa fosse il resto del mondo. E se non lo sanno gli americani, allora è fatta. Ecco, è in questo quadro un po' tragicomico che a mio modesto avviso si colloca la sfida della cittadinanza globale. C'è una sfida complessa, ma che, come gli organizzatori qua, sono anche io consapevole che è imprescindibile per la pace mondiale e il cui grado di consapevolezza varia a seconda da posizioni geopolitiche e geostrategiche continentali. Ecco, io vi porto un percorso, un punto di vista filosofico africano, con la consapevolezza però che ogni punto di vista è la vista di un solo punto. Cioè che anche in Africa troverete chi, nonostante il punto dove dobbiamo arrivare è un fatto reale di storia, ma avrà anche le sue nuanze. Quindi un solo punto di vista, ma essenziale nella comune ricerca di uno stradario comunicativo sinfonico a partire dal quale ricostruire una futura coesistenza pacifica, radicata nella consapevolezza che la radice dell'umano, che noi chiamiamo verità, è sinfonica, non univoco. E lo diceva anche Hans Urs von Balthasar. La verità è sinfonica. Questo punto di vista è altrettanto importante in quanto è una modesta riflessione sul percorso identitario che l'Africa e gli africani hanno intrapreso a partire dal momento in cui sono stati chiamati a confrontarsi con la cittadinanza globale e globalizzante per noi. Cioè quello che vi dicevo, ciò che Senghor chiamò l'appuntamento del dare. E quindi è un percorso però che è un parto, quindi se un parto è doloroso, ma allo stesso tempo ogni parto rappresenta una speranza per l'umanità. In che senso? Lo dico nel senso di io, tra virgolette, intendendo la mia cultura africana, non sono la verità rispetto al globale, ma spero di essere nella verità. E se questo non si capisce, tutto il discorso in effetti che si è fatto, che dagli anni 45 a questa parte è più difficile nel colloquio tra l'Africa e l'Europa, cioè il tema della partnership diventa difficile. Perché invece di essere nella, sperare di essere nella verità, l'altro si presenta come la verità. E come si dice a Roma, boh, io ho ragione, lui ha ragione, lei ha ragione, noi tutti abbiamo ragione, e mo' che famo? Ecco, due questioni però a priori, secondo me, per l'educazione. Se la verità è sinfonica, significa che la vita è relazionale. E questo per gli africani è il clou. Tutto è relazione. E qui vi do un esempio. L'esempio, sempre sul tema dell'educazione, cioè che noi non chiamiamo educazione. Tutta l'Africa dell'Ovest, a quale appartengo, il sistema educativo si chiama iniziazioni, processi di iniziazioni. E mi ricordo che l'ultima volta, l'ultimo che ho fatto, quando avevo appena dodici anni, che poi si conclude con la parte biologica, che è quella per i maschi, che è quella della, come si chiama, la circoncisione. Poi ci sono solo i musulmani che fanno questo per le donne. Non tutti. Nel mio paese siamo 36 popolazioni assolutamente diverse l'uno dall'altro, un milione e mezzo di abitanti. Tra queste 36, solo due fanno le scisioni per le donne. Tutti gli altri no. Non è contemplato. Però in Africa si fa questo. Quello sentiamo spesso. Allora, quando si entra, si passa gli ultimi tre mesi, lo viviamo nelle foreste. Preferisco darvi questi esempi molto pratici, e quando entriamo siamo in fila cantando. Poi tu arrivi qua, più in là c'è il maestro del coltello e poi c'è un gruppo degli anziani che ci ricevono. La formula dell'entrata vuole, loro ti chiedono tu come ti chiami? Cosa che non facciamo oggi. Oggi arrivi in una frontiera, documenti. Come ti chiami? Molto semplice. E tu non rispondi io mi chiamo, sono Filomeno, eccetera, eccetera, perché già lo sanno. È la stessa comunità che ti ha dato il nome. Ma cantando rispondi. Io sono con le mani, così, colui che il giorno in cui sono venuto da questa parte voi eravate là con le mani tese e io sono caduto nudo nelle vostre mani. Sono colui che per tanto tempo voi state tenendo ancora in mano e sono colui che il giorno in cui dovrò ritornare da dove sono venuto dopo questo peregrinaggio sarò di nuovo nelle vostre mani. Allora gli anziani ti toccano la testa senza dirti niente, le orecchie, eccetera, eccetera, e poi ti dicono sì figlio, vai, ricorda però finché non ti sei dato vita, non hai educato te stesso e non seppelirai te stesso mai dire questi sono fatti miei che non sono i fatti del villaggio e viceversa. La vita sono gli altri e l'essere umano è l'unico rimedio per l'altro essere umano. Quindi la verità è relazione. Ragion per cui anche quando more una persona dalle mie parti non necessario quando lo si lava il defunto prima di sepelirlo non è semplicemente per una ragione biologica ma è per ricordare quel bambino che loro hanno avuto nelle loro mani hanno lavato e poi l'hanno vestito. Questo vestire è ciò che per noi la cultura si chiama si chiama cultura ma ciò che esce dal ventre di una madre e si apre in fiore davanti a noi è semplicemente un essere umano che poi diventa maschio femmina filomeno eccetera 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 ma è prima di tutto un essere umano ed è quello fatto che ognuno di noi nasce come un semplice essere umano che si apre in fiore passa transita attraverso il ventre delle nostre mamme e si apre in fiori davanti a noi semplicemente come un essere umano che fa sì che oggi qua possiamo parlare della possibilità o meno di una cultura globale cioè c'è un qualcosa di radicale che ci unisce e allora provate a immaginare che proprio dalla teoria dei filosofi illuministi ad altro tutta l'elaborazione filosofica per negare l'umanità dell'altro a cui poi seguirono cinque secoli di schiavitù radicati sulla consapevolezza che filosofica che siccome l'essere umano è un animale razionale e la rassio significa anima e i neri non hanno anima allora cosa fanno dice Hegel dormono nel buglio dell'infanzia dell'umanità e l'educazione che gli dobbiamo dare significa fare tutti i percorso possibile per farli uscire da questo sonno dell'infanzia dell'umanità la coscienza oggi dei poverini aiutiamoli a casa loro eccetera eccetera che poi se venite giù vedrete veramente che dal 45 a questa parte è un tutto un aiutiamoci a casa loro piuttosto che aiutarli a casa loro anche se anche se ancora due tre proverbi e quattro racconti due bazellette e tante riflessioni le ascolteremmo tutti volentieri però il mio compito è quello di richiamate ancora qualche minuto grazie ecco allora vi dicevo il dramma per noi è questo come intraprendere un discorso diciamo così globale con chi l'epoca della globalizzazione l'ha iniziata però allo stesso tempo elaborando una filosofia di emigrazione non ha mai elaborato una filosofia di immigrazione quello è successo per la prima volta con Anna Arendt sul tema dei rifugiati nella seconda guerra mondiale cioè gli ebrei allora cosa vuol dire voglio terminare con questa cosa tutti i dibattiti che seguirono dagli anni trenta fino agli anni sessanta sono condensate in un libro che voi potete trovare di uno scrittore senegalese che si chiama Cheka Midukan e il titolo è L'Aventure Ambigue L'Ambigua Avventura e cerca di riassumere questo dramma che gli africani hanno vissuto a partire da un certo momento e dice un bel giorno tutti sono svegliati da un rumore forte che viene dal porto l'anziano prende le sue misere difese che aveva e va verso il porto per vedere qual è questo pericolo che è arrivato solo che mentre si avvicinava anche i più giovani più intraprendenti lo seguono per andare verso il porto e dice prima di arrivare però il porto i nostri sono caduti e sono tutti morti di una morte che nessuno sa spiegare perché per l'allora ancora la morte presupponeva un duello quindi devi essere vicino all'altro invece quello da lontano con le sue tecnologie ti uccide eccetera i villaggi si radunano la domanda è che cosa fare ecco Ece Kamidukan mette nella bocca di una donna queste sagge parole a un certo momento lei dice no signori miei noi abbiamo perso e non serve a nulla continuare questa guerra l'unica cosa che dobbiamo fare adesso è decidere se dobbiamo mandare o no i nostri figli alla scuola dei nuovi arrivati la loro educazione e io penso che dobbiamo avere il coraggio di mandarli anche se quando loro torneranno probabilmente c'è il rischio che non non ci riconosceranno perché chi impara scorda anche e quindi andando ad imparare poi quando torneranno non riconosceranno i nonni non saranno più in grado di parlare perché è un altro paradigma completamente diverso e questo lo viviamo noi e allora l'anziano che doveva dire la parola finale si avvicina al maestro dei nuovi arrivati gli dice beh ed è questo che vorrei che si riflettesse un po' in maniera storica cioè che noi abbiamo deciso di mandare i nostri figli alla vostra scuola perché? perché dal momento in cui voi vi siete sbarcati nei nostri porti noi abbiamo capito che l'era della preservazione di se stessi e dei destini singoli è compiuta da questo punto di vista la fine del mondo è arrivato per tutti noi l'unica cosa che abbiamo adesso da fare e agire pensare molto per meglio agire e agire molto per meglio pensare in modo da consentire che si possa nascere un figlio che sarà il primo e l'unico della storia ma l'era dei destini singoli è compiuto ecco noi siamo quel frutto siamo andati alla scuola dell'altro loro dovranno noi dovremo mandare i nostri migliori e loro dovranno andare ad imparare la stessa arte di vincere senza avere ragione beh cos'è l'africano e bussi bulaga dice da questa tragica storia noi dovremmo imparare che ciò che noi chiamiamo Africa è nella sua essenza diasporiana cioè d'ora in avanti non c'è mai un noi che è slegato da loro così come non c'è un esterno che è slegato da un interno e i paesi hanno lottato per l'indipendenza così per questo l'indipendenza voleva semplicemente dire noi siamo non contro l'Europa contro gli americani contro ma siamo contro il sistema che si chiamava schiavitù colonizzazione apartheid e così via ma un portoghese che è qui a casa da oltre 50 anni che cosa ha di comune col portoghese che è a casa sua se non solo che è nato lì ecco sono contento di nascere in un paese che credo che abbia non soltanto insegnato questo ma l'ha dimostrato anche precisamente con un italiano e questa è la mia conclusione si chiamava Monsignor Arturo Ferrazetta era veronese che è venuto al mio paese da oltre più di 50 anni bene se voi arrivate nel mio paese tutto ciò che opera di educazione scuola eccetera è stata opera di quel uomo durante più di tutti i 50 anni tutta la classe politica che c'è oggi non solo la classe politica ma noi che ci consideriamo come nipoti siamo nati e cresciuti bene quando è morto era un periodo difficile del mio paese c'era la guerra no e la gente si radunò tutta intorno a quest'uomo un vesco se volete bianco se volete cattolico dove la religione cattolica è ancora più minima no la gente si affida a questo per preservare ciò che è valso la pena dieci anni di lotta per l'indipendenza cioè l'unità nazionale e quando è morto ho visto fare una cosa che neanche a Milcar Cabral che ci ha insegnato questo concetto di identità non soltanto interna ma qualcosa anche di esterna e che tutti vengono nello stadio prima di sepelirlo fanno una serie di cerimonie per proclamarlo antenato e forse per chi non è familiare con la cultura africana non riesce a capire cosa questo significa però io lavoro in Vaticano e vi dico che è molto più facile ottenere la santità in Vaticano che il titolo di antenato nella cultura africana perché vuol dire le specchie di rettitudine di tutto ciò che sono i valori di cui noi crediamo e l'hanno sepolto dando un nome che significa ecco l'italiano è il guineano nato per sbaglio in Italia questa è la cittadinanza globale questo è il futuro e avevamo anche subito dopo l'indipendenza uno che si chiamava Leo Buscardini anche lui italiano di origine era ministro dell'interno dal 1974 fino all'80 nessuno si è mai posto il problema che colore ha da dove vieni eccetera eccetera aveva dedicato la sua vita a questo quindi in sintesi l'identità non è soltanto un com è un deposito ma è anche un compito perciò è le plus affaire che le déjà faites si va facendo a seconda dei processi storici e credo che questo sono più o meno alcune delle cose che volevo portare avrei preferito soffermarmi di più sul tema di che cos'è l'identità quando sento parlare oggi prima gli italiani cos'è l'italianità eccetera eccetera perché penso che un processo di cittadinanza globale in un paese in un momento come questo bisogna avere il coraggio dopo la campagna elettorale almeno di ragionarci su questa faccenda altrimenti parliamo di nozioni molto astrate ma che per noi è un problema vitale ma credo che i semi ci sono perché il 90% dei vostri legislatori parlamentari nonostante tutto io dico sono già nell'Italia queste immagini di cittadinanza globale cioè loro tutti hanno badanti a casa se no non ce la fanno ora i badanti in questo paese di che cosa si occupano i bambini e gli anziani ogni anziano che more è una biblioteca che brucia si dice da me perciò bisogna ascoltarlo ed essere in grado di capire che abbiamo raccolto l'eredità in modo da far sì che la sua morte non sia una biblioteca che brucia ma una biblioteca che ci ha lasciato di esperienza ma i figli oggi non hanno tempo per ascoltare i loro anziani e chi affidano questo la badanti quindi gli ultimi segreti della famiglia cosiddetta italiana ce l'hanno non i figli ma la badanti e poi i figli i bambini sono il futuro di un paese quindi chi ti affida gli anziani e i bambini in chiave di prospettiva di globale infatti ti ha già affidato il suo passato e il suo futuro ed è tutto fatto a parte il discorso che noi in Africa conserviamo tutto ciò che è delle lingue europee se noi volessimo la morte dell'Europa siamo in grado di farlo semplicemente non parlandone più ma e questi sono segni che ci dicono la mondialità la globalità è più presente di quanto la nostra testa pensa che veramente è tale troppi altri esempi ma mi fermo qui per non annoiarvi grazie direi che il tuo invito a considerare che la mondialità è molto più presente in noi di quello del quale siamo consapevoli è tra tanti stimoli e tante riflessioni che ci hai portato quello che ci può aprire anche ad un dialogo che ci hai portato che ci hai portato